All'interno di una strategia di cercare di offrire al turista ma anche al residente alcune opportunità musicali che in questo caso gastronomiche siamo riusciti a organizzare, seppur in pochi giorni, una piccola manifestazione che si svolgerà su più giorni che ha un aspetto musicale, un aspetto gastronomico grazie al contributo e alla collaborazione della Camera di Commercio e grazie a chi ci ha pensato a organizzare un evento internazionale e anche che ha qualcosa di gastronomico che per noi unire le due cose non è male, soprattutto in un periodo di inizio stagione, in realtà di alta stagione perché i numeri sono abbastanza importanti. June Experience è un evento musicale internazionale che porterà sull'isola DJ da tutto il mondo? Sì, è stata una fortuna riuscirli a prendere al volo perché June Experience tocca tutte le capitali mondiali, dall'Australia all'Europa, quindi negli Stati Uniti e riuscire a unire questi DJ internazionali che arriveranno produttori importantissimi con il sole, il mare dell'Isola Ega e dell'intrattenimento per noi è un grandissimo obiettivo perché veicolare tutto questo nel mondo con la bellezza dell'Isola Ega e di Famigliana rappresenta un'opportunità di incoming interessantissima. Sono previste numerose persone? Sì, già hanno staccato circa 300 biglietti dall'estero, più tutto il territorio della provincia di Trapani è stato coinvolto, più tutti i turisti che ci saranno quindi ci sarà tantissima gente, poi il tempo le previsioni danno meraviglioso, quindi ci sarà veramente tanti bagni, tanto divertimento, tanta bella musica, tanto cibo e tanta bella gente soprattutto che è la costante e la caratteristica di Famigliana dell'Isola Ega e di quest'anno. Quali sono le zone dell'isola interessate? In questo caso abbiamo realizzato, per quanto riguarda le iniziative, diciamo, gratuite, aperte a tutte, abbiamo realizzato un piccolo villaggio su Piazza Barrago, quindi sul porto di Famigliana, poi ci saranno altre iniziative un po' in giro per il paese, in alcuni locali ma non interessa molto il villaggio, ci sono diverse manifestazioni, la sera con alcune rassegne sia musicali che mi pare una teatrale e poi il sabato sera con una manifestazione musicale, quindi è chiaro, insomma, siamo riusciti, insomma, anche seppur in breve, in pochi giorni a organizzare un piccolo momento, insomma, che può dare un'opportunità in più alle persone che vengono, quindi non soltanto a mare ma anche in questo caso un po' di divertimento.